Ghent e Bruges, due città meravigliose questo weekend, semplicemente sensazionale Bruges onestamente è molto molto più bella di Ghent è un piccolo centro, fondamentalmente quello che consiglio è il giretto in barca perché ti permette di vedere anche quegli angolini nascosti di Bruges che sennò non ho dei dress facilmente albergo fantastico, in realtà non è un albergo, è un B&B e poi questo enorme lettone a baldacchino al centro della camera che è un qualcosa di sensazionale niente, non ho niente da ridire, è tutto fantastico ah, dimenticavo, la birra è a 0,30 centesimi organizzazione, organizzazione caiano